Ciao amici, saluti da Vimbo, tra poco presento il mio libro in questo fatto. Questo evento è accreditato dall'Ordine, un momento unico per ragionare le sue relazioni di coppia, anche sulle strutture, e circa che riprende, aspettiamoci di gli altri. Informatevi sul programma, sui social e sul sito ufficiale www.vibocapitaledellibro.it Vivo Valencia è capitale del libro.